Il mito nel cuore è il claim potente, profondo e viscerale con il quale Enna si è candidata a Capitale Italiana della Cultura 2025, per il quale ha presentato un progetto che è anzitutto una visione di sviluppo condivisa con imprese e associazioni locali e con numerosi altri comuni del centro Sicilia. Un video mapping proiettato sulla facciata del Teatro Garibaldi, un tempo casa comunale, è sintesi perfetta di un progetto ambizioso che si avvia al primo rush finale e atteso tra un mese esatto il primo verdetto della commissione, composta da esperti del mondo della cultura, delle arti e del turismo, che decreterà le 10 finaliste tra le 15 candidate. Ieri i cittadini di Enna si sono ritrovati al Teatro Garibaldi per un momento di aggregazione e condivisione voluta dal sindaco Maurizio Di Pietro e dalla sua giunta per presentare a tutti gli ennesi i protagonisti attivi che hanno contribuito con idee e proposte alla realizzazione della candidatura. I dettagli della proposta culturale presentata al MIC, Ministero della Cultura. Enna ha una tradizione culturale antichissima e sono fermamente convinto, dichiara il sindaco, che lo sviluppo economico e sociale della città debba partire dalla cultura, indesa come forza di cambiamento per uno sviluppo aperto a tutti. Fanno parte del comitato d'onore della candidatura di Enna a Capitale Italiana della Cultura 2025, il CONI Delegazione Enna, GAL Rocca di Cerere Geoparc, Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, Soprintendenza di Enna, Diocesi di Piazza Armerina, Fondazione Sicilia, Libero Consorzio di Enna, Università Core, Ente Parco Minerario Floristella Grotta Calda, Parco archeologico di Morgantina, Villa Romana del Casale e i comuni di Agira, Aidone, Calascibetta, Gagliano, Castelferrato, Nicosia, Pietra Persia, Troina, Valguarnera Caropepe e Villa Rosa.